Una senza legge, capace di commettere furti a raffica ma anche truffe, sostituzioni di persone e dulcis in fundo, anche una vacanza tutta gratis in un BNB di Ibla con il fidanzato. Si tratta di una 44enne ragusana sottoposta, giovedì scorso, all'ordine di carcerazione dei carabinieri della stazione di Ragusa. Come appena accennato il provvedimento, è scaturito dalle risultanze dell'attività d'indagine sviluppata dai militari dell'arma che hanno individuato la donna quale responsabile di numerosissimi furti avvenuti tra il 2016 e il 2021 in tutta la provincia eblea e che negli ultimi tempi si era resa anche protagonista di altrettanti reati, tra cui truffe, furti e sostituzioni di persone e quelli più noti e fatti di cronaca come la breve vacanza gratis concessasi a Ragusa e Ibla senza aver pagato il BNB in cui aveva dimorato con il proprio fidanzato. La 44enne inoltre all'atto dell'arresto è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, motivo per il quale è stata segnalata alla competente autorità amministrativa prima di essere escoltata dai militari presso il carcere di Catania dove dovrà scontare sei anni di reclusione.